Domenica 3 settembre alle ore 19 Elio racconta Elio, l'ultimo evento dell'estate al Mantua Village che appunto chiuderà la rassegna di eventi che abbiamo presentato. È un evento di cui siamo particolarmente orgogliosi poiché riteniamo che Elio sia in questo momento il personaggio perfetto per il nostro Village perché rappresenta la cultura, rappresenta l'arte, è un artista a 360 gradi, il format si chiama Musica e Parole, è un format che abbiamo già utilizzato da un paio d'anni per uno spettacolo particolare, nel senso che la prima parte della serata prevederà appunto un'intervista all'artista dopodiché nella seconda parte della serata canterà, sarà accompagnato da una band di giovani musicisti e interpreterà le musiche di Enzo Iannacci, tratte da uno spettacolo teatrale che sta portando in giro ormai da diversi mesi dedicato appunto a Enzo Iannacci.